presentato a Cartigliano il nuovo villaggio per anziani un progetto inclusivo e sostenibile a metà ottobre sarà aperta la corsia ciclopedonale del ponte nuovo a novembre tornerà il doppio senso di marcia nell'ultimo consiglio comunale si è parlato anche di genius center progetto stroncato dalla minoranza 361 milioni di euro in più di costi per la pedemontana veneta il pd all'attacco della regione ancora atti vandalici sul ponte vecchio gomme da masticare mozziconi incastrati nel legno iniziate le operazioni di recupero degli scarti industriali lungo la strada general giardino l'autunno porta nuovi rincari abbiamo chiesto cosa peserà di più per le tasche dei bassanesi tre persone rinviate a giudizio per la morte del bambino investito a san martino di lupari un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di bassano ed intorni lo avete visto dai nostri titoli in apertura parliamo di un progetto all'avanguardia presentato a cartigliano il nuovo villaggio per anziani un'iniziativa che trova il sostegno di quasi tutti i comuni della zona tranne bassano del grappa si alza il sipario ed è già spettacolo da applausi per il brolo dei gelsi a cartigliano il nuovo progetto ideato dall'amministrazione comunale è portato avanti con la casa di riposo per realizzare un villaggio per anziani 8.000 metri quadrati 5 milioni di euro di investimento 44 unità abitative ecosostenibili e inserite in un contesto verde a pochi passi dal nuovo polo scolastico dell'infanzia a favorire l'integrazione fra generazioni diverse è un progetto che mi è venuto l'idea quattro anni fa quando stavamo appunto pensando alla nostra scuola materna nuovo silo nido mi è venuto in contrapposizione il problema dell'anzianità lo scenario di un villaggio dove bambini anziani condividono spazi stimoli e servizi è nato così e già da qualche tempo si sta sviluppando a cartigliano ma con il brolo dei gelsi si apre una strada che porta diritto al futuro e al sostegno del territorio inclusione con i bambini inclusione anche quella comunità la casa di riposo che diventerà casa dei servizi è un centro sociale aperto alla comunità questo progetto ci vuole assolutamente minimizzare l'impatto ambientale che questo può avere e nel contempo anche ottimizzare le risorse energetiche che in questo momento sono assolutamente fondamentali e quindi facendo di questo luogo una sorta di hotspot energetico che può servire tutto il territorio circostante aree verdi private impianto geotermico e fotovoltaico serra parco bimbi telemedicina orti giardini e la possibilità per gli anziani di gestire gli spazi del patronato un progetto avveniristico che partirà nel 2024 per completarsi entro il 2025 una firma sul futuro che quasi tutti i comuni del comprensorio hanno voluto mettere per sostenere l'idea di cartigliano quasi tutti e al territorio nel territorio necessita una struttura del genere dunque abbiamo chiesto tra virgolette un patrocinio all'idea e quasi tutti i comuni ce l'hanno rinviato ritornato firmato ecco fra chi non ha firmato spicca bassano del grappa proprio la città che dovrebbe essere capofila di progetti così proprio l'amministrazione che sul tema case di riposo avrebbe molto da fare ma anche in questo caso l'erba del vicino continua a essere più verde e adesso ci spostiamo proprio a bassano per parlare del cantiere del ponte nuovo perché ci sono novità importanti in arrivo ponte nuovo off limits a pedoni e ciclisti ma ancora per poco ad annunciarlo è il vice sindaco di bassano l'assessore lavori pubblici andrea zonta intorno al 15 di ottobre apriremo il percorso ciclo pedonale a nord arriveranno adesso le piastre a breve verso fine mese prima il mese prossimo la pose poi si sarà riaperto quel tratto per cui pedoni e ciclisti dal 15 di ottobre potranno transitare il ponte della vittoria tra poco più di due settimane dunque si potrà tornare ad attraversare il ponte a piedi o in bicicletta e questo rappresenterà ovviamente un grande vantaggio per chi deve spostarsi da una parte all'altra della città senza usare la macchina entro il mese di novembre poi potrebbe tornare anche il doppio senso di marcia per gli automezzi all'azienda il secondo passaggio lo farà tra il 15 e il 20 di novembre quando riconsegnerà la strada del ponte terminata e pertanto usufruibile nei due sensi di marcia nei due sensi di marcia sarà usufruibile anche le parte ciclo pedonale rimarranno magari qualche piccolo lavoro di finitura ma che non andrà a distribuare il traffico né pedonale né veicolare e lo abbiamo visto ieri nell'ultimo consiglio comunale si è parlato del ponte nuovo anche dei mancati aiuti ai commercianti della zona ma si è parlato anche di genius center un progetto duramente stroncato dalla minoranza dalla lampada da cui è uscito il genius è destinato a rientrarci e questo per il bene dei conti e del bilancio di bassano a stroncare in consiglio comunale il progetto genius center presentato dall'amministrazione pavan è l'ex sindaco riccardo poletto che di geniale in tutto questo vede ben poco sul genius center abbiamo proposto una mozione che interrompesse questo procedimento perché sono 25 milioni di debito in 20 anni ma soprattutto ci sono molti buchi nella proposta che viene fatta che ci inducono a dire fermatevi fermiamoci perché rischiamo di fare dei passi falsi anche qui la risposta dell'assessore è stata ha cercato di essere rassicurante perché lui dice siamo ancora in una fase di proposta saranno gli uffici che poi ci diranno se questa cosa sta in piedi oppure no però tutto questo cozza fortemente con altri messaggi che questa amministrazione ha dato fin dall'anno scorso a dicembre del 2022 la sindaca in un'intervista ha detto che le due grandi opere che sarebbero partite decollate entro il termine sarebbero state l'ascensore dal parcheggio di prato santa caterina fino a via dei matri cosa che invece si è impallata anche lì e probabilmente no sicuramente non si concluderà ma forse neanche partirà prima di giugno l'anno prossimo e poi appunto il genius center di cui diceva la sindaca poseremo la prima pietra prima del fine mandato il rischio concreto sottolinea poletto è di creare un buco profondo nel bilancio presente e futuro non possiamo fare altri passi falsi soprattutto non possiamo indebitare il comune su un progetto che prevede di mantenersi con degli introiti che non stanno in piedi abbiamo fatto i conti la serva e i due le due principali attività di quel genius center che sono poi la fine un museo uno spazio espositivo e un ristorante fondamentalmente dovrebbero macinare presenze talmente elevate che sono incredibili il museo dovrebbe lavorare 4 5 volte quello che lavora il museo civico nella sua interezza come numero di ingressi a un prezzo medio e il ristorante abbiamo fatto i conti insomma che dovrebbe fare almeno 250 coperti al giorno restiamo a bassano e parliamo di teatro comunale l'area quarta lavori pubblici ha affidato il servizio di redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali alla società v3 studio di tiene nello specifico si sta provvedendo all'acquisizione di un documento che tenendo conto della relazione già approvata e dei contenuti storici artistici di sviluppo di un nuovo teatro cittadino indichi le possibili soluzioni progettuali alternative a quelle dell'intervento allora noi chiaramente monitoreremo e seguiremo anche questo aspetto adesso parliamo di atti vandalici sul ponte vecchio niente da fare anche se ci sarebbe tanto da fare sì perché gli atti vandalici sul ponte vecchio di bassano continuano proprio stamattina un nostro telespettatore ci contatta per segnalare l'ennesimo episodio di inciviltà sulla balaustra del monumento nazionale ecco appiccicata una gomma da masticare ben spalmata sul legno danneggiandone l'immagine e la vernice ma come se non bastasse ecco spuntare mozziconi di sigarette incastrati nelle crepe del legno insieme ai vecchi cucchiaini di plastica e ai fazzoletti sporchi e poi liquori rovesciati sul pavimento e sulla base delle colonne perché rendere appiccicose solo le balaustre evidentemente non era abbastanza incivile e così tornano alla mente le parole del vice sindaco andrea zonta che ai nostri microfoni aveva promesso più telecamere e sanzioni più severe anche perché lo ricordiamo chi paga i vari restauri del ponte vecchio sono i cittadini qualora servisse come testimone oculare ci sarebbe lui il ragno del ponte che con la sua tela è lì da mesi infastidito un po dai flash dei tanti turisti che lo fotografano cose che capitano quando una star va in declino come il ponte vecchio e così si finisce col ripiegare sulla celebrità effimera quella che dura poco anche se a pensarci bene quattro mesi su una ragnatela in bella vista non sono poi così pochi voltiamo pagina adesso parliamo della pedemontana veneta 361 milioni di euro in più di costi proprio per la pedemontana veneta e il pd va all'attacco della regione si parla di 361 milioni di euro dovuti ai rincali a causa del ritardi del covid e a causa della guerra in ucraina quello che ci viene da dire subito è se la sissa avesse rispettato il cronoprogramma della terza e ultima convenzione i lavori sarebbero stati terminati prima e non saremmo entrati in questo periodo negativo e quindi credo che da parte della regione non sia dovuto neanche un euro il partito democratico del veneto va all'attacco dopo le ultime stime sui costi della superstrada pedemontana veneta in crescita di 361 milioni di euro portando così a 2 miliardi 880 milioni la montare dell'opera nel 2017 esattamente nel marzo del 2017 questa azienda privata ha usufruito da parte dell'amministrazione zaia dalla regione veneto di 300 milioni di euro zanoni pone poi l'accento sul tema quanto mai dibattuto dei pedaggi si era impegnata a dare un'agevolazione ovvero un'esenzione di pedaggio ai cittadini di ben 70 comuni che si ritrovano nel percorso e nei comuni limitrofi al percorso dei 94 chilometri della superstrada pedemontana veneta questa esenzione del pedaggio nel tempo l'ha voluta togliere in questo quadro io credo sia veramente improponibile e ricevibile la richiesta di ulteriori 361 milioni di euro zaia faccia valere l'interesse pubblico perché aggiunge zanoni da diversi anni evita di applicare le penali per il ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera e inoltre non si fa restituire i 20 milioni di euro di iva non dovuta due azioni che la corte dei conti di venezia a richiedere mi auguro conclude zanoni che la regione non dia un euro in più vorrei essere ottimista ma se guardo alla storia recente e a come quella convenzione non ha mai stata applicata a favore dei cittadini dei contribuenti veneti mi viene da dire che la regione potrebbe fare delle concessioni che io credo non dovrebbe assolutamente mai fare voltiamo pagina sono iniziati i lavori di recupero del materiale di scarto abbandonato da mesi a borso del grappa cittadini attenti amministrazione comunale di borso del grappa e rete veneta è il caso di dirlo l'unione farà forza dopo alcuni nostri servizi che denunciavano quintali di materiale di scarto industriale chili chili di involucri abbandonati all'altezza del quarto tornante della strada generale giardino ecco che qualcosa si muove e questa mattina abbiamo dato il primo inizio al recupero delle dello sversamento già segnalato in all'inizio di maggio scorso e di una quantità molto importante di rifiuti industriali lavori di recupero iniziati dopo nulla ossa dell'autorità giudiziaria competente che aveva sottoposto a sequestro il materiale abbandonato queste i bancali di tessuto non tessuto dal peso all'incirca di 250 kg cada uno alcuni erano diciamo in una posizione facile da raggiungere altri invece sono rotolati lungo la valle a una distanza di 50 60 metri dal tornante numero 4 perciò richiederanno un secondo intervento lavori che si concluderanno entro fine ottobre nel frattempo continuano le indagini da parte degli inquirenti per identificare gli autori del gesto l'augurio mio personale è quello che vengono identificati e condannati a rimborsare tutte le spese oltre che al danno ambientale provocato una strada quella che porterà i responsabili che sembra già ben delineata siamo certi che non è una produzione locale vicina a noi nemmeno della valbrenta probabilmente si tratta di uno stoccaggio che è stato accumulato negli anni in qualche cappannone torniamo a bassano perché la fiera d'autunno si avvicina e già sale la preoccupazione visto quanto successo l'anno scorso manca una settimana la fiera franca è alla fiera d'autunno in centro storico a bassano saranno oltre 200 le bancarelle che animeranno il cuore della città e se da una parte cresce l'attesa per la manifestazione dall'altra aumenta anche la preoccupazione di chi l'anno scorso si è trovato di fronte ad una situazione davvero inaccettabile lunedì quando è andata via la fiera abbiamo trovato tutto marciapiede e tutti i tombini in vasi da sporcizia pieno di olio le macchie ci sono ancora non è che siano andate via nessuno ha fatto niente e non vorremmo tutti noi che succedesse anche quest'anno sporcizia chiazze sul marciapiede ma chiedunto un po ovunque un brutto ricordo che ha lasciato l'amaro in bocca a residenti e commercianti noi chiediamo che ci sia più controllo più pulizia e più rispetto per per i nostri locali perché non possiamo permetterci di del lunedì quando apriamo il martedì quando apriamo di trovare tutti i marciapiedi e i tombini in vasi da olio per cui dobbiamo collido pulitrice quant'altro pulire tutto insomma quello che è successo non deve ripetersi mi auguro che non si ripeta che ci sia più controllo più che altro solo questo perché io non vieto che ci sia la fiera non vieto che non ci sia le bancarelle non vieto che ci sia niente perché ci devono lavorare anche loro però un po più di rispetto sì e siete in tanti sempre a segnalarci problemi di degrado di sporcizia di pattume nella vostra strada nel vostro comune questi sono i recapiti di rete veneta noi come sempre raccoglieremo la vostra voce porteremo le segnalazioni a chi di dovere adesso cambiamo decisamente argomento perché da qualche giorno è arrivato l'autunno autunno che ha portato con sé una serie di rincari noi abbiamo chiesto ai bassanesi quali sono quelli che pesano di più che rincaro la spaventa più di tutto il costo della vita specie qua a far la spesa se prima bastavano 10 euro adesso 15 non sono sufficienti ormai ci siamo abituati dobbiamo conviverci con sta cosa purtroppo non so come si fa di cos'è che ha più paura del rincaro cosa che spaventa di più la spesa la bolletta la benzina il mutuo cosa mutui per fortuna non ne ho la benzina sicuramente sì e anche la spesa che è aumentata di un 20% qual è la cosa che la spaventa di più di questi rincari no io non cerco di non spaventarmi perché non va bene bisogna che qualcuno veramente cominci a metterci mano ci deve essere una qualche risoluzione perché è ormai impossibile farci fronte ma certo che sono pronta se meno ancora meglio come si fa a sostenere questo aumento continuo sta a dirmi perché io ormai sono stanca di continuare a dire guardi troppo basta non guardo più niente siamo in due quello che costa costa dopo non mi interessa più niente tutto è rincarato tutto tutto perché si spende mediamente 20 30 euro in più al mese anche di più con la benzina 50 euro al mese di più non so come faremo come si fa a pensare a un rincaro ulteriore con queste condizioni non lo so dovrebbero esserci quelli che ci pensano il governo ma non ci pensano minimamente è rincarata anche la pasta il pane quello spaventa che sono viveri di prima necessità soprattutto per le famiglie che hanno lavori precari e tanti figli magari tanti figli certo come si fa ci si mette in dieta e si sta attenti a come si fa a spendere i soldi di che rincaro a paura soprattutto beh un po in genere tutto sia luce gas aumenta sempre tutto i generi alimentari conti e calcoli che sicuramente non spaventano il prof della fisica che ci piace e ha conquistato migliaia di studenti a bassano vediamo più di 3000 studenti delle scuole superiori del bassanese hanno invaso il palazzetto dello sport di via cadolfin non si è trattato di un concerto rock anche se l'anima rock di sicuro ce l'ha il professore di fisica vincenzo schettini arcinoto tra chi frequenta i social per la divulgazione originale e contemporanea della sua materia in modo accattivante e coinvolgente ha catturato l'attenzione dei presenti portando la sua esperienza ma soprattutto la sua passione ci sono stati dei momenti ed è durata tanto durata un'ora e mezza in cui c'era un silenzio pazzesco e questo non perché si debba stare in silenzio ma semplicemente perché quando siamo in comunicazione vogliamo ascoltare loro mi hanno ascoltato e io li ho ascoltati è stato uno scambio incredibile bellissimo e quindi un grande abbraccio a questi ragazzi per il loro futuro un grande in bocca al lupo un modo di insegnare la fisica diverso anche se in realtà non si cambiano regole non si cambiano formule perché quelle sono ogni professore ce ne sono tantissimi che lavora guardando negli occhi di studenti e partendo dal fatto che io ti voglio far amare quello di cui ti sto parlando è un professore vincente il professore che rimarrà nei cuori come quello dell'attimo fuggente senza risparmiare selfie e autografi come una vera star ha lasciato un segno in questi giovani cui si è rivolto con il cuore un messaggio che viene lanciato ai ragazzi è quello in ogni caso comunque di impegnarsi è il primo passo ecco perché non bisogna farsi fregare dal fatto che ho il professore che mi coinvolge mi impegno ho il professore che non mi passa allora mi distraggo lì è un problema lì stai perdendo tu un'occasione di sintonizzarti col mondo e domani lavoro università e soprattutto affetti saranno dovuti alla connessione che saprai creare quella connessione la impari a scuola la fisica è stupenda la fisica la comprendi quando la guardi e vediamo adesso alcune brevi notizie dal territorio furgone in fiamme lungo la superstrada pedemontana veneta tra gli svincoli di breganza e marostica in direzione treviso per spegnere il rogo che ha completamente distrutto il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco fortunatamente nessuno è rimasto ferito le cause dell'incendio sono di probabile natura elettromeccanica pascolava nei pressi di malgafondi per poi scivolare in una scarpata è stato salvato e portato in salvo dai vigili fuoco di asiago un giovane bovino intrappolato in una gola l'animale è stato imbraccato dai soccorritori trasportato con elicottero e liberato in un prato nelle vicinanze controlli straordinari del territorio hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Tiene i militari hanno controllato quattro esercizi pubblici 36 veicoli e 57 persone anche con l'uso dell'etilometro un cinquantenne è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test tre persone rinviate a giudizio a cinque anni dalla morte del bambino investito a San Martino di Lupari il direttore dei lavori il responsabile della polizia locale il conducente del pulmino sono le tre persone rinviate a giudizio dal tribunale di Padova per la morte del piccolo Martin Fior era il 20 settembre 2018 quando il bambino otto anni fu investito dallo scuolabus mentre tornava da scuola in bicicletta con la mamma a San Martino di Lupari a nulla erano valsi disperati tentativi di salvargli la vita agli imputati a vario titolo vengono contestate irregolarità nel restringimento di corsia presente all'epoca lungo la strada percorsa dal bambino e l'erroneo posizionamento dei cartelli di segnalazione l'autista del pulmino è accusato invece di non essersi fermato alla vista del bambino in bici il processo si aprirà il 21 novembre 2024 è tutto per questa edizione di TG Bassano prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento alle 21.15 con il focus del nostro direttore Luigi Baciagli una puntata speciale questa sera interamente dedicata al mondo delle Miss dei concorsi di bellezza con le candidate Venete a Miss Mondo e la nuova Miss Venice Beach io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e buona serata su Rete Veneta